Per il sorbet, per il sorbet di creme è la stessa linea? No. No, generalmente una linea neutra per creme ha un emulsificante, perché ha una gordura. Una linea neutra per frutta non deve avere un emulsificante, visto che non ha una gordura, perché mettere un emulsificante? Non ho bisogno di quella legazione, no? È chiaro che se sto facendo un sorbet di frutta con cocco, io colloco una linea neutra per creme, perché tengo gordura, ok? Se tengo gordura, colloco un emulsificante, se non tengo gordura, perché colloco un emulsificante?